Siamo all'Italo Ferranto, l'avete riconosciuto, l'allenatore del Livorno Davide Nicola che stasera terrà uno stage per gli allenatori. Partiamo Davide, insomma due anni fa tu hai preso un patentino importantissimo con lo Master, tra l'altro ci risulta anche che sei stato il migliore in quel corso, quindi insomma complimenti. Sì ma poi alla fine conta quello che si farà in campo, devo dire che sono soddisfatto di questo inizio percorso, nel senso che questo è il quarto anno che alleno, quindi in quattro anni sono riuscito, grazie anche alla fiducia degli altri, quindi dei vari presidenti e dirigenti ad arrivare in Serie A. E questo è il mio obiettivo, cercare di diventare bravo nel mio lavoro e per fare questo sicuramente ci deve dedicare un pochino più di tempo che non quando si giocava. La situazione Davide del tuo Livorno, mancano due giornate alla fine, sei stato richiamato al posto di Di Carlo, vi giocherete ancora il tutto per tutto. Insomma i risultati di ieri, la vittoria della Sampdoria e della Fiorentina, vi tengono ancora in corsa? Ma sì, credo che quest'anno le ultime cinque ci si salverà con un punteggio probabilmente più basso rispetto agli altri anni. Indubbiamente quattro pariti alla fine sono stato richiamato appunto domenica scorsa, quindi la settimana scorsa, quindi per una squadra che ha fatto tra la prima gestione e la seconda gestione una media di 0,80 punti a partita, adesso siamo nelle condizioni di doverne fare almeno due a partita. E bisogna giocarsela, crederci, è chiaro che è un'impresa sportiva, è un'impresa difficile, però secondo me bisogna raggiungere a tutti i costi questo obiettivo, perché comunque questo era l'obiettivo iniziale, noi siamo stati promossi l'anno scorso e quest'anno abbiamo pensato di vedere con una squadra che era largamente esordiente in questa categoria, compreso il sottoscritto, di poter vedere se potevamo mantenere la categoria. Noi ci crediamo ancora fortemente e vedremo la fine. Naturalmente, purtroppo dalla notizia del giorno, la scomparsa di un grande uomo di calcio, di un grande conoscitore, un uomo anche molto simpatico, Vujo Vimboskov, il tuo ricordo? Indubbiamente si tratta di una persona estremamente simpatica, competente, credo che abbia lasciato in tutti gli amanti del calcio un ricordo indelebile. Credo che sia stato uno dei pochi veramente a usare l'arte dello sdrammatizzare, quindi di porre tutte le cose sotto il giusto piano. Il campionato Davide di Geno e Sampdoria, partite male, lì è uno dei casi in cui il cambio ad allenatore ha davvero fruttato i risultati, a parte questa flessione finale, la Sampdoria ha vinto, però è dovuto al fatto che le squadre sono già praticamente matematicamente salve. Sia Mijailovic che Gasperini hanno dato la chiave di volta qua a Genoa. Indubbiamente sì, credo che sono le uniche due squadre che abbiano ottenuto probabilmente così grandi benefici da un cambio. Forse ancora più eclatante quella di Mijailovic perché oltre a ottenere risultati ha anche dato proprio un'identità alla squadra, un gioco leggermente diverso magari rispetto al seppur bravo degli rossi. Mentre Gasperini credo che non sia una presentazione nuova qui al Genoa e si tratta di un allenatore estremamente abile, capace, conoscitore della piazza, però tutte e due le squadre sicuramente avevano anche organici secondo me importanti per poter fare questo tipo di campionato. Tu sei un profondo conoscitore naturalmente del calcio ligure, lo Spezia dove tra l'altro anche se è stata una bandiera anche lì, ha perso con l'Empoli, rimane in corsa i play-off. Le possibilità che hanno i ragazzi di Mangia per accedere alla Serie A secondo te? Io credo che lo Spezia, poi non è sempre molto simpatico dire sicuramente arriverà, sicuramente vincerà perché sembra quasi che la fai suonare come una mezza gufata, quindi a me non piace questo tipo di atteggiamento, credo che lo Spezia abbia indubbiamente una squadra competitiva per raggiungere i play-off, c'è già, o comunque c'è stata per largo periodo, poi la ripresa, poi magari sono scivolati un po' sotto, ma comunque la squadra è competitiva per poter cercare di raggiungere quelle posizioni. Dopodiché si vedrà. Tu tra l'altro li hai visti a Cesena, se non mi sbaglio, giusto? Ci eravamo sentiti tra il primo e il secondo tempo, poi il secondo tempo è stata una bella vittoria, quella importante. Sì, li ho visti anche a Brescia, li ho visti in casa con il pareggio e purtroppo la sconfitta anche col Pescara. Si tratta di una squadra che comunque ha voglia di giocare, che propone calcio. È chiaro che la Serie B rispetto alla Serie A come qualità è sicuramente diversa, ma rispetto alla Serie A questa miriade di partite che tutte sono sempre estremamente competitive e bisogna veramente essere competitivi nella continuità. Tu sei un profondo conoscitore naturalmente del calcio ligure, lo Spezia, dove tra l'altro anche se è stata una bandiera anche lì, ha perso con l'Empoli, rimane in corsa i play-off. Le possibilità che hanno i ragazzi di Mangia per accedere alla Serie A, secondo te? Io credo che lo Spezia, poi non è sempre molto simpatico dire sicuramente arriverà, sicuramente vincerà, perché sembra quasi che la fai suonare come una mezza gufata. Quindi a me non piace questo tipo di atteggiamento, credo che lo Spezia abbia indubbiamente una squadra competitiva per raggiungere i play-off, c'è già, o comunque c'è stata per largo periodo, poi la ripresa, poi magari sono scivolati un po' sotto, ma comunque la squadra è competitiva per poter cercare di raggiungere quelle posizioni. Dopodiché si vedrà. Tu tra l'altro li hai visti a Cesena, se non mi sbaglio, giusto? Ci eravamo sentiti tra il primo e il secondo tempo, poi il secondo tempo è stata una bella vittoria, quella importante. Sì, li ho visti anche a Brescia, li ho visti in casa con il pareggio e purtroppo la sconfitta anche col Pescara. Si tratta di una squadra che comunque ha voglia di giocare, che propone calcio. È chiaro che la Serie B rispetto alla Serie A come qualità è sicuramente diversa, ma rispetto alla Serie A questa miriade di partite che tutte sono sempre estremamente competitive e bisogna veramente essere competitivi nella continuità. Ecco, capitolo arbitri. Sappiamo che tu hai molta stima degli arbitri, ne parli sempre poco. Il livello secondo me, secondo te, in questo momento che c'è in Serie A, abbiamo visto errori eclatanti. Il gol ieri dell'Atalanta in fuorigioco, addirittura un errore clamoroso in Coppa UEFA, tra Sevilla e il vostro. Ci sono tanti errori, Davide, inutile negarlo. E la tua opinione? Sì, il punto credo che sia semplice e allo stesso tempo complesso. Nel senso che veramente bisognerebbe immaginare gli arbitri come sono a tutti gli effetti professionisti come noi. Io ho potuto vedere anche come si allenano, come si preparano per dirigere una partita. È indubbio che hanno un ruolo dove l'errore viene amplificato perché già si mal sopporta quelli che facciamo noi o i nostri giocatori quando poi magari interviene da terzi, anche se è una figura, se non la figura principale del calcio, fa sempre un po' discutere. Indubbiamente però ci sono delle cose che spesso fanno discutere perché pare che ci siano magari due pesi, due misure. È chiaro che poi c'è un discorso anche di qualità, di morale in ognuno di noi dove dovremmo cercare di capire che fa parte del gioco, però non è sempre facile. Io ho fatto una scelta di non commentare mai, però ogni tanto mi pento anche perché dico beh non è che poi fai la figura dello sciocco. Io li accetto e credo sempre alla buona fede. È chiaro che però magari in momenti dove ti giochi qualcosa di veramente importante e si fa fatica alle volte a accettare, però è così, insomma. Va accettato perché anche noi facciamo i nostri. Graziano Cesari che tipo di arbitro era? Numero uno. Ti chiedo ancora una cosa su Graziano perché ci hanno detto che non è mai stato coinvolto in nessun tipo di polemiche perché lui tra il primo e il secondo tempo si chiudeva nello spogliatoio per farsi le lampade. A te risulta? Ma non so se fosse proprio tra il primo e il secondo tempo, però girava questa voce e credo che abbia smesso, no?